Ciao! Oggi vi mostrerò un tutorial facile. Ricaveremo un rilievo come questo, da questa foto scaricata dalla rete. Facciamo partire la sigla. Apriamo la foto in Photoshop. In modo da raddrizzarla ed eliminare le parti che non ci servono. Creiamo un nuovo livello. Ritagliamo la foto. Ora, dobbiamo raddrizzare la foto. Teniamo premuto il mouse sul contagocce e clicchiamo su Righello. Ora, dobbiamo solo disegnare una linea seguendo il piano orizzontale della foto. Apriamo il menu Immagine, selezioniamo Rotazione Immagine e clicchiamo su Altro. Nella finestra successiva clicchiamo su OK. Nella finestra successiva clicchiamo su OK. Con la bacchetta magica selezioniamo l'immagine. Invertiamo la selezione e coloriamo di bianco l'area. Nella finestra successiva. Nella finestra successiva. Con questa operazione abbiamo ottenuto una maschera che come vedremo ci sarà utile. Salviamo l'immagine. Ora possiamo chiudere Photoshop. Apriamo l'immagine in Artcam. Scriviamo in Z un'altezza provvisoria. Abbiamo creato il rilievo, però dobbiamo separarlo dal piano di costruzione. Dal pannello Progetto importiamo l'immagine della maschera. Selezioniamo l'immagine e spostiamoci nella vista 2D. Con l'immagine selezionata apriamo il menu Bitmap, selezioniamo Colore, e clicchiamo su Riduci numero. Riduciamo il numero dei colori a 2. Con lo strumento Bacchetta magica clicchiamo sul fondo bianco. Abbiamo creato un vettore del bordo del rilievo. Con il vettore del bordo selezionato clicchiamo su 0 all'esterno del vettore. Come si può vedere è rimasto solo il rilievo. Ora bisogna ritoccare qualche punto e qualche dettaglio. Useremo gli strumenti Scultura. Grazie. 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 Il nostro rilievo è finito. Abbiamo usato ArtCam, ma potevamo usare anche altri programmi, ad esempio Aspire. In Aspire il procedimento è uguale. Si importano le immagini separatamente. Selezionata l'immagine nel menu Modellazione, creiamo il rilievo. Possiamo modificare l'altezza a piacere. Grazie. Selezionando l'immagine della maschera creiamo il vettore lungo il bordo. Grazie. Grazie. Ora ci basterà selezionare il vettore e il rilievo per eliminare il piano. Selezioniamo il livello del rilievo, in modo da usare lo strumento Scultura. ritocchiamo il rilievo. Grazie. Grazie. Grazie.